Terzo gol del Parma, ero raccio da parte di Rossettini, nato via sulla sinistra, Palladino ha toccato raso terra per la corrente Giovinco e palla in rete, partita questa volta in cassaforte per il Parma, siamo al 48esimo minuto e 30esimo secondo, Parma 3, Siena 1, gol di Giovinco, buona linea.